Range Rover Vogue 2002 190 CV Immatricolazione marzo 2012, cambio manuale, chilometri 214.000 Disponibile alla Link Motors Coutignano, in via Napoleone Bonaparte 116B Ultimo tagliando effettuato a gennaio 2024 Distribuzione completa 180.000 km Nell'anno 2023 manutenzione effettuata frizione volano, gomme, freni nuovi, batteria Chiusura centralizzata telecomandata, controllo trazione Freno di stazionamento elettrico, luci diurne Trazione integrale Climatizzatore automatico due zone, controllo automatico clima Cruise control, vetri oscurati, volante in pelle, interni in pelle, limitatore di velocità, pacchetto sportivo Regolazione elettrica sedili Sedili sportivi Sensori di parcheggio anteriore e posteriore Autoradio, bluetooth, controllo vocale USB, viva voce, volante multifunzione Lettore cd, sistema di navigazione Antifurto, cerchi in lega Luce ed ambiente Luci diurne led Sospensioni sportive Start stop automatico Che aspetti? Contatta la Link Motors Butiniano allo 080 81 72 831 377 35 660 41 Segui la nostra pagina web www.linkmotors.it Filiale Futignano Al prossimo episodio